Sì, noi siamo felicissimi. È chiaro che l'inizio alla Zese è solo un momento simbolico, nel senso che a noi interessa che venga realizzata l'intera tratta, però l'inizio è un inizio concreto, un'opera molto importante a cui tutti i sindaci del lago guardano con notevole interesse. È già stata detta l'importanza dal punto di vista ambientale. Per me è una doppia felicità il fatto che appunto parte dalla Zese e che questo sia un momento tangibile dove si misura l'efficienza delle scelte politiche. Penso che l'impatto sia minimo, nel senso che noi organizzeremo le varie tratte del cantiere dove si può, cercheremo dei percorsi alternativi. Per la stagione estiva i lavori verranno interrotti, per cui l'impatto sarà minimo, ma comunque quell'impatto lì è comunque necessario e sostanziale.